Io ritengo che si stia già arretrando un po' di bala, sia un po' una forzatura, Allegri come dicevo ha sempre amato il trequartista, ora Pjanic non sarà trequartista puro, però lo possiamo considerare una menzala offensiva con licenza di colpire. In alternativa proprio se vogliamo si può provare, si può mettere anche Piazza, ma io penso che il sistema sia bello e pronto con Pjanic vertice alto, mi domando e mi piacerebbe sapere da Allegri, ma perché complicarsi molte volte la vita quando hai un Pjanic che preferisce giocare in quel ruolo, fallo giocare in quel ruolo, lui dice no, però in Bosnia nel suo paese Pjanic gioca da centrale. Dice perché vi scandalizzate se io arretro tra virgolette Pjanic? Ho due riflessioni, una facevo una battuta giusto per sdrammatizzare, ma perché voler tra virgolette violentare Pjanic in senso tattico è come avere una camicia a maniche lunghe e trasformarla in maniche corte, viceversa quella a maniche corte farla diventare maniche lunghe. Pjanic deve giocare davanti, deve giocare lì in mezzala con licenza di offendere, poi anche un'espressione che usò Allegri che effettivamente mi lasciò interdetto, dice io devo trasformare Pjanic in regista, lo farò diventare uno dei più grandi registi del mondo. Guardate quello che ho fatto con Hernanes l'anno scorso, quando l'ho trasformato, l'ho messo in regia. Beh, considerando quel precedente rabbrividivo. Mi ricordano che Hernanes gioca in regia anche a Roma con la Lazio, un trequartista ha giocato. Su Hernanes dico c'è stato anche qui troppi cambiamenti tattici. Però le risposte dei giocatori in campo non sono più dalle. Sì, però un acquisto fatto il 31 agosto, prima doveva giocare più avanti, poi lo arretri. Possiamo dire che Hernanes è l'ultimo dei nostri problemi? Direi proprio di sì, però se gioca può diventare il primo dei nostri problemi. O magari scoprire una soluzione. Delle dotti profetiche.